Ricordate quei bei tempi in cui sembrava che Fedez fosse il papà perfetto, coccolando i suoi figli, portando a spasso il cane, e preparando romantiche cene a lume di candela con Chiara Ferragni? Beh, dimenticateveli, perché sembra che ci fosse molto di più dietro le quinte di quella tranquilla facciata familiare. Fedez, il rapper che sembrava essere imprigionato dalla sua vita familiare, si è finalmente liberato, e sta vivendo la vita al massimo dopo la sua separazione da Chiara Ferragni. Prima della rottura, Fedez sembrava essere schiacciato dal peso delle aspettative familiari. Sentendosi forse imprigionato dalle dinamiche del suo matrimonio, il rapper ha ammesso di lottare con la depressione e di essere in terapia, segno che dietro la facciata felice c'era ben altro. Ma ora, con la separazione, Fedez ha fatto emergere la sua vera natura. Lo vediamo immergersi nel jet set, circondato da lusso, e divertimento nei locali notturni fino alle prime ore del mattino. Una vita che sembrava essere stata privata a Fedez, mentre era legato a un matrimonio che non lo soddisfaceva pienamente. D'altra parte, Chiara Ferragni sembra mantenere un profilo basso, continuando la sua vita con coerenza. Senza lasciarsi trascinare nell'impeto del divorzio. La sua tranquilla determinazione contrasta nettamente, con il vibrante stile di vita che ora caratterizza Fedez. La domanda che molti si pongono è, di chi è stata veramente la colpa della rottura? Forse entrambi hanno avuto un ruolo da giocare. Ma ciò che è certo è che ora Fedez si sta finalmente concedendo la libertà di essere se stesso. Lontano dalle catene del matrimonio, e delle aspettative familiari.